secondo voi per mantenere sempre il focus sul lavoro anche quando non arriva il guadagno cosa consigliate di avere una motivazione forte dietro nel senso che se stai facendo a parte che secondo me anche sulla motivazione dei soldi c'è visto che non arrivano di farli arrivare dovrebbe essere sufficiente però in generale però in generale se se hai una ragione per cui stai per cui vuoi far partire quel progetto lo vuoi far funzionare che non sia solo perché voglio diventare ricco che per tanti basta e avanza però se c'è anche una ragione più profonda sono due grandi motivazioni dell'essere umano esatto se ce n'è anche una più profonda sicuramente ti aiuta a non perdere diciamo la tenacia io nella mia piccola esperienza l'ho visto con Udi che è la prima volta che pensiamo ad un progetto e prima di tre anni non non entra neanche un euro anzi richiede tutti quegli investimenti e tutto questo tempo e ti dico l'unica cosa che che non mi ha fatto fare next e pigiare sul sulle jack button è stato il fatto che è un'idea in cui crediamo da morire e che riteniamo sia necessaria per il futuro quindi questo per me è l'esempio è l'esempio di questo poi è la mia esperienza ti dico pure che sicuramente è più facile continuare quando hai soldi per farlo cioè nel senso se uno magari sta lì che non riesce a trovare cioè non hai soldi per vivere è difficile poter fare un ragionamento questo tipo esempio Udi cioè ora abbiamo dieci programmatori che programmano il reparto marketing di hot lead al servizio e noi che possiamo stare sul pezzo quando serve perché perché c'è cioè ci stanno i soldi dietro nostri che stanno finanziando chiaramente se uno non ce l'ha e io capisco molto perché anch'io la mia prima la mia prima cioè le mie prime aziende erano voglio fare soldi e le prime mie molto onestamente ve lo dico ragazzi cioè non volevo salvare il mondo all'inizio all'inizio volevo riuscire a essere libero essere indipendente a non fare la vita che gli altri si aspettavano che avrei dovuto fare poter seguire una mia strada e anche sai un'altra cosa il fatto di poter dire avevo ragione io sai questa cosa qui che non so come si chiama in in lingua italiana questa cosa la rivalsa cioè una rivalsa pure come dire io mi ricordo una volta che c'era questa mia amica ma ti parlo di anni anni fa vivevo ancora a Roma e mi diceva ma tu come sei messo all'università io ero in ritardo poi avevo cambiato da economia a lettere a lettere in quel periodo guarda ho cambiato economia a lettere ha detto ah così nel 2060 ti laurerai poi troverai lavoro nel io dicevo ma questo non capisce un cazzo cioè io sto facendo le mie cose sul mio percorso universale una cosa in più bella che voglio fare cioè me la tengo lì ma non è quella la mia però per dire per tutta quella gente che rideva di te che ti prendeva per il culo cioè anche quello lì è un motore che se tu ci pensi cioè una cosa che ti spinge avanti beh è proprio ancestrale nel senso che è validare i tuoi pensieri validare chi sei tu e anche la tua identità esatto vuol dire che hai pensato cazzate fino a oggi quindi sì e poi un altro un'altra cosa che mi è servita è vivermela sempre come un viaggio come un'esperienza quindi anche tutte le volte che ho buttato soldi e ne ho buttati tanti investimenti sbagliati persone sbagliate di cui mi sono fidato cioè è sempre c'è un'esperienza tanto nessuno sa un cazzo in questo mondo quindi non è che cioè se non rischi non ottieni l'unico modo che abbiamo per ottenere qualcosa è immergerci nel mondo delle possibilità che vuol dire nel mondo del rischio e fare cose che altri non fanno e rischiare